E' un uomo di parola, Vick. Mai dovresti saperlo. E' un uomo di parola, Vick. E' un successo elegante sembra aver avuto successo. Come ti senti? Sembri malato. Forza, dammelo. Scusa, ma temo di non poterlo fare, ma... E' l'ultima volta che mi vado a riporti. Questo non è il momento per le trattative. Io credo di sì. Il clown ha mia moglie. Riportamela indietro. Non è affatto una buona idea, Freeze. Oh, credo proprio di sì. Mi riporterai un'ora. Oppure... Tu... Morirai. Sei nel mio mondo, ora, Vick. Se non mi hai... La forza va bene. Non ti aiuterà. Non sei al sicuro. Io... Ti troverò. Cosa? Dove? Non devo farmi vedere da Freeze. Non mi riuscirò. Non accadrà, vuoi. Questa sarà la tua tomba. No! Non mi riuscirò, vuoi. Non mi riuscirò. Questa sembra, non mi moita. Non mi riuscirò. Non mi riuscirò, vuoi. Oh, non mi riuscirò. Oh, volevo. Cos'è quel rumore? Giù le mani, ora! Dovresti cercarti dei gadget che non rivelino la tua posizione. No! Le mie strategie, il fondo, e le tue. Tuoi gattoli non servono. Devo farmi vedere qui, sono troppo piccoli. E tu? Le mie strategie è buono, e le tue. Dove diavolo sei? Io imparo, e lui imparo, e tu? Io non so fare una seconda volta. Io imparo, e lui imparo, e lui imparo, e lui imparo. Il mantello non si apre. L'aria è gelata. Devo cambiare strategia. Ti prego, trova Nora. Mi resta solo lei. È finita. Era tutto ciò che potevo fare. Harley Quinn l'ha preso. Cosa stai aspettando allora? Vallo a riprendere. Il clown pagherà per quello che ci ha fatto. Non è così semplice. Joker ha sbarrato l'acciaieria. Entrare non sarà una passeggiata. Forse posso aiutarti. Stavo lavorando a un nuovo tipo di proiettili. Forse questi ti daranno il vantaggio che cerchi. Te lo prometto, Victor. Io troverò Nora. Ciao, ciao.